Buonasera, benvenuti a tutti coloro che ci seguono collegati virtualmente, benvenuti a questa serata del ciclo Politec Stories, un ciclo che nasce in collaborazione con il Politecnico di Milano e il nostro istituto per raccontare storie di creatività e storie di cultura Politecnica, ma anche tratteggiare le figure di personaggi, docenti e grandi maestri del Politecnico di Milano. Siamo molto orgogliosi e curiosi questa sera di sentire la storia di Marco Zanuso, considerato a ragione uno dei maestri del design industriale italiano. Ora darò qualche coordinata per orientarci meglio la biografia di Marco Zanuso. Nasce a Milano nel 1916, architetto, urbanista e designer, è stato attivo esponente della cultura progettuale nazionale e internazionale con direttore di Domus con Ernesto Nathan Rogers nel 46-47, redattore di Casa Bella negli anni 50, ha ottenuto diverse volte la medaglia d'oro e conseguito il più gran premio della triennale ben tre volte. L'attività di architetto e designer gli hanno fatto guadagnare diverse volte il compasso d'oro in diverse edizioni e anche alla carriera nel 1985. Ricordiamo tra le architetture da lui realizzate i complessi per Olivetti in Sud America, lo stabilimento Necchia Pavia e il nuovo piccolo teatro di Milano. Tra i progetti di design menzioniamo quelli di Arflex, Brian Vega, Borletti, Gavina, Bonacina, Cartel e Siemens. Questa sera abbiamo nostri ospiti per raccontarci questa storia il professor Giampiero Bosoni, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Lui è docente di architettura e di architettura degli interni allestimento al Politecnico di Milano e la moderazione e la guida in questo percorso sarà del professor Vega Hoff della ETA di Zurigo, storico e critico di architettura. Avremo un momento anche di confronto con il pubblico, quindi ci sarà uno spazio per delle domande al termine dell'intervento. Auguro a tutti voi una buona serata. Grazie. Grazie. Grazie tante, cara Michela. Penso che tocca a me dire tre parole a questo momento e poi lascerò la parola a Giampiero Bosoni. Sono sicuro che tutti noi ci siamo trovati negli anni 50, ma già negli anni 30 del secolo scorso. L'ho trovato nel libro Italian Design, scritto da Bosoni e pubblicato nel 2008, il catalogo fondamentale della collezione del design italiano presso il Museum of Modern Art di New York. Non stupisce che è stato scelto Bosoni per questo compito onorevole, dato che quasi non c'è designer o produttore italiano, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, sul quale Giampiero Bosoni non ha pubblicato un saggio oppure un libro. Cito solo Tecno, l'eleganza discreta della tecnica, uscito nel 2011, Made in Cassina, 2008, o Franco Albini, 2011. Un mio preferito libro è Italy, Contemporary Domestic Landscapes, 1945-2000, Una risposta già nel titolo sulla mostra Italy, The New Domestic Landscape, presso il MoMA nel 1972. Questo libro è una riflessione su e una riflessione di una Italia vivace e audace, pronta a pensare il comportamento quotidiano al di là del quotidiano e pronta a trovare nuove forme per oggetti, ma anche per la società. E, non da ultima, un libro su una industria capace e coraggioso di produrre questi oggetti. Io penso che noi tedeschi siamo tanto affascinati da questa cultura italiana capace di unire l'utile con una inimitabile leggerezza. In questo senso sono molto curioso di sentire stasera Giampiero Bosoni su Marco Zanuso, sul quale c'era già un convegno pubblicato sotto il titolo Marco Zanuso, Architettura e Design nel 2018, una collaborazione fra l'Archivio del Moderno, presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio, allora in Svizzera, e il Dipartimento del Design presso il Politecnico, dove, come sappiamo tutti, Bosoni è a casa, per così dire. Allora, io ti lascio la parola e ci sentiamo dopo per una discussione. e dico solo in un senso di organizzazione tecnico che le domande sono già benvenute nel chat se avete una domanda, poi ci ritorniamo dopo. Grazie mille. Ancora buonasera, un cordiale saluto al gentile pubblico dell'Istituto Italiano di Cultura a Berlino, come pure a tutti gli auditori del Politecnico di Milano. E un sentito ringraziamento ai responsabili dell'Istituto per il cortese invito. Ripeto, un cordialissimo saluto anche all'amica e collega del Politecnico di Zurigo, Erke Wegerhoff, col quale farà un piacere conversare in questa interessante occasione intorno alla figura e l'opera di Marco Zanuso. Un maestro dell'Architettura e del Design italiano, ma anche maestro nel senso di storico professore del nostro Politecnico, peraltro anche mio, stimatissimo insegnante nella Scuola di Architettura del nostro Ateneo. Sono quindi onorato di rappresentare il nostro Politecnico di Milano per questo interessante ciclo di lezioni titolato Politex Stories, ideato dal Politecnico per incontrare i centri di cultura italiana nel mondo. A questo punto metterei già una condivisione di immagini. Ovviamente dovrò fare un po' di ricerca. Vediamo se faccio questa operazione. Vedete un po' di confusione, ma adesso diventerà, credo, tutto più chiaro. Ditemi se vedete bene l'immagine con cui iniziamo, che è un ritratto di Marco Zanuso. Protagonista della storia dell'architettura italiana della seconda metà del XX secolo, Marco Zanuso, come si ci ha detto, classe 1916, venuto a mancare precisamente vent'anni fa, quindi ricordiamo anche con, diciamo, sorta di anniversario, venuto a mancare nel 2001, è considerato anche uno dei padri fondatori della cultura del design italiano. In questa occasione verrà soprattutto analizzato il suo particolare interesse per la tecnologia e l'innovazione, che lo ha visto intrecciare importanti ricerche, tanto nell'architettura che nel disegno degli oggetti utili, a fianco di alcune delle più significative realtà industriali della sua epoca. Come progettista impegnato su diversi fonti ha contribuito insieme a Marcello Nizzoli, al gruppo dello studio BBPR, Banffi, Belgioioso, Peresutti e Rogers, soprattutto con Ernesto Nathan Rogers, è stato ricordato il suo subito legame nella conduzione della rivista Domus, appena dopo la guerra, di cui Rogers mi sa per due anni direttore, con Zanuso nella redazione, e con anche altri autori fondamentali, alcuni un po' più vecchi di lui, altri suoi compagni del percorso che adesso raccontiamo. Parliamo di Franco Albini, i fratelli Livio, Pier Giacomo e Achille Castiglioni, Alberto Rosselli, Giancarlo De Carlo, Vico Magistretti e Vittoriano Viganò. Con loro partecipa il dibattito nel dopoguerra sugli sviluppi del movimento moderno in Italia, interessandosi particolarmente ai problemi dell'industrializzazione del prodotto e all'applicazione dei nuovi materiali e tecnologie, in particolare nel suo lungo e appassionato lavoro di industrial designer. In architettura si ricordano le sue magistrali concezioni per gli edifici industriali, nei quali mostrò una particolare sensibilità nel coniugare l'innovazione tecnologica con una raffinata e originale qualità spaziale, sempre attenta alla qualità ambientale del lavoratore, di chi vive e lavora dentro la fabbrica. Ricordiamo qui la industria Olivetti, lui inizia giovanissimo a realizzare, per questo grande imprenditore che era Adriano Olivetti, questi incarichi di nuove fabbriche nella, allora magari si potrà chiamare ancora Terzo Mondo, che era il Sud America, dove portano questo genere di progetti avanzatissimi. Qui vediamo la sede Olivetti in Argentina, che lui progetta tra il 54 e il 61, dove, come si vede forse nella foto a sinistra, si capisce che queste strutture prefabbricate che lui fa realizzare con questi fori sono tutti concepite per portare in una maniera nuova gli impianti di ariazione e il discarico dei fumi all'esterno. Oppure la sede Olivetti in Brasile, con questa tecnica di costruzione molto particolare, di queste volte che si incrociano fa di logo, che sono un'altra prova di abilità e di intelligenza costruttiva, sempre nuova e non banale. Ma in quegli anni ritroviamo Zanuso già a impegnarsi anche in fabbriche in Italia, come l'industria Neki di Pavia, l'industria già famosa per le sue macchine da cucire e che poi darà vita ad altri anche prodotti per la casa, elettrici per la casa, e che vedremo più avanti Zanuso verrà coinvolto anche come designer. Poi ancora in Italia facciamo una carrellata di questo tema per lui molto importante, soprattutto in questo periodo della sua carriera, vale dire quello della realizzazione di questi grandi impianti industriali. Troviamo la sede per la Briner, che poi diventerà la sede della Brionvega, che lui disegna nel 1963-67 a Treviso. Anche qui si vede con quale controllo, sapienza, ricerca di una qualità spaziale lavora Zanuso in questi anni. Siamo veramente, come vedete, tanti anni fa, parliamo di progetti degli anni 50-60, quindi di 60-70 anni fa. Sempre in Italia ritroviamo Zanuso a occuparsi delle fabbriche Olivetti. Voi avete avuto a Berlino, immagino, una bellissima mostra su questa grande storia Olivetti, e tra le tante cose stupende che questa azienda ha realizzato, anche la sua qualità, la sua ricercatezza nella produzione, nella realizzazione delle sedi del lavoro, delle fabbriche, degli uffici, è molto importante. E Zanuso, insieme all'architetto Edoardo Vittoria, realizza le sedi a crema e marcianise con queste tecniche di elementi prefabbricati che costruiscono questi sistemi trilitici molto ricercati. E concludiamo adesso questo ciclo, intanto, del suo progetto per l'industria con il complesso per l'EBM a Roma, uno dei suoi ultimi lavori, in località Santa Palomba, realizzato a cavallo degli anni 80-90. Ma ricordiamo anche il suo lavoro innovativo nel campo degli uffici, indifici per il terziario avanzato, questi importanti palazzi per uffici che diventano, dopo guerra, un nuovo campo di progettazione. E lo vediamo, di fatti, Zanuso occuparsi di questo tema appena dopo la guerra, nel 1946-47, all'età di 30 anni, insieme all'amico e collega architetto Roberto Menghi, realizzando questo edificio nel centro storico di Milano, in via Senato, dove coinvolgono, peraltro, anche l'artista Lucio Fontana, appena ritornato dall'Argentina, non ancora famosissimo, come poi oggi è ben conosciuto, e lo invitano, come capitava in quel tempi, per realizzare diversi pannelli decorativi e una curata e inedita finitura ceramica di alcune superfici. Se si conosce abbastanza bene nell'immagine, la foto a colori in alto a destra ingrandisce quello che è, le fasce che stanno dietro alla grande vetrata che si vede nel palazzo, e poi invece quelle particolari graffiaturhe nella ceramica erano un trattamento che loro studiano insieme a Fontana per tutte le fasce sotto le finestre. Geniale artista, devo ancora dire, Fontana, con il quale Zanuso aveva già collaborato, giovanissimo a questo punto, diciamo appena laureato, a 24 anni, poco prima della guerra, nel 1940, in un lavoro di gruppo per una cappella commemorativa. E poi, parlando sempre del palazzo per uffici, possiamo già arrivare a questo grande progetto per il complesso, il centro direzionale IBM a Milano, che lui progetta a cavallo degli anni 60 e 70, dove anche la sperimentazione dell'open space, cioè degli spazi aperti da comporre come spazi ufficio, sono l'occasione per Zanuso, per individuare delle modalità che creino ambienti più vivibili, con delle sorte di cellule relazionate, come vedete, da quella ricerca di aree nella pianta poste in alto a destra. Spostandoci poi all'ambito sociale ed educativo, ricordiamo anche qui il sofisticato intreccio della ricerca tecnica, formale, tipologica di Marco Zanuso, con gli esempi dell'asilo all'Orenteggio a Milano nei primi anni 50, che mostriamo qui adesso nelle sue foto d'epoca, soluzione articolata del progetto all'esterno, ma anche degli studi, poi parleremo appunto più da vicino del Zanuso designer, ma si vede anche negli interni quale tipo di armadiature, quale tipo di soluzioni in questo tipo di asilo propone. E ancora pochi anni dopo, nel 58, un altro originale progetto per un asilo a Gubbio in Toscana, dove anche qui noi prendiamo tante slide per mostrare le varietà che ci sono in questi spazi, ma spero che soffermandoci un attimo si colga nell'immagine a sinistra come queste unità isolate si compongono e si leggono anche all'interno con questi soffitti che riproducono appunto il disegno del tetto a falde e poi all'interno cadono invece degli spazi di giardini conclusi, delle sorte di pati, come si vede nella foto in basso a sinistra, dei pati vetrati che portano luce e spazi all'aperto all'interno di questo sistema di elementi. Ma sempre parlando di spazi pubblici, sociali dedicati ai bambini è piacevole ricordare questo geniale lavoro per il parco di Pinocchio, il gioioso integrante parco di Pinocchio dedicato appunto al celebre burattino bambino di legno animato famoso in tutto il mondo dove appunto nella località dove De Amicis nasce e si tratta di Collodi in Toscana viene realizzato questo parco gioco coinvolgente l'artista grandissimo artista degno di secolo dato quanto Lucio Fontana Pietro Consagra che disegna e realizza queste sculture in bronzo che sono pensate insieme all'architetto Zanuso e anche all'architetto del paesaggio Pietro Porcinai che appunto insieme concepiscono questo bellissimo spazio che consiglio di visitare e questo viene negli anni 60 dove ogni tappa è l'incontro con figure personaggi del racconto di Pinocchio come in questo caso Carabiniera che è molto grande dove i bambini ma anche gli adulti devono chinarsi passarci sotto per scappare via oppure la grande balena che ovviamente si sa mangia alla fine Pinocchio ma poi lo restituisce al suo papà ecco c'è anche un bel disegno che forse qui è un po' piccolo ma molto intenso al carboncino che fa sentire con quale diciamo ricerca si cerca di costruire una sorta di labirinto e di scoperta di diverse stazioni di questa storia ma in questa descrizione del progetto d'architettura di Marco Zanuso ricordiamo anche alcune sofisticati progetti per edifici d'abitazione qui vediamo la villa urbana si trova nel centro della città di Milano lungo un viale alberato siamo molto vicini al palazzo della Trennale per dire via 20 settembre e della villa Shapira mentre vediamo un altro progetto e fa capire quanto Zanuso abbia imparato la lezione del suo maestro Rogers nel imbedesimarsi nel calarsi nel contesto e nell'ambiente in cui si progetta e qui vediamo invece una casa di vacanze al mare in Sardegna da Zachena dove questo progetto è stato fonte di ispirazione anche di altri progetti interessanti fatti da suoi colleghi collaboratori allievi in particolare ricordo un altro grande architetto in questo caso Don Cini Boeri che ha realizzato sull'isola del Maddalena due ville ispirate potremmo dire da questo lavoro del suo maestro Marco Zanuso ma vediamo anche come linguaggio la forma le tecniche e lo spirito anche del luogo in questo caso è dedicato anche una persona a lui molto cara si tratta della villa sul lago per l'amico e socio di tanti progetti che fra poco vedremo progetti di design il tedesco ma poi italianissimo Richard Sapper nato a Monaco di Baviera nel 32 poi morto a Milano nel 2015 che arriva ancora giovanissimo a lavorare a scegliere di venire a vivere questa diciamo nuova ventata nuova via del design italiano ancora negli anni 50 lavorando da Gioponti e poi iniziando a collaborare con Marco Zanuso dove la collaborazione è cresciuta così tanto fino al punto che ormai buona parte dei progetti che vedremo dopo della storia del design di Marco Zanuso nati come progetti dello studio Marco Zanuso sono ormai riconosciuti per buona parte come una coprogettazione ma parlavamo sempre di ville di case d'abitazione e una delle ultime sue realizzazioni in Sudafrica quindi un luogo anche abbastanza affascinante nella savana africana la residenza villa casa per la famiglia Press che si distende appunto in questo paesaggio che ha degli aspetti veramente affascinanti per quasi questa primordialità dell'inserimento nel territorio un altro esempio di grande sensibilità nella diciamo cogliere lo spirito del luogo come insegnava anche Norbert Schultz il genius loci storico dei romani ecco è interessante vedere in questo progetto quasi delle analogie con il progetto molto arcaico e affascinante della villa della casa di vacanza al mare in Sardegna per concludere questo giro intorno all'architettura di Marco Zanuso ricordiamo i suoi progetti per edifici pubblici e civili che possiamo dire si rassumono molto bene nella sua più importante opera pubblica per la città di Milano il complesso teatrale per quello che è uno storico luogo del teatro a Milano grande compagnia del teatro a Milano che ha trovato poi forse qualcuno lo sa anche in Germania perché è stato molto stimato in tutta Europa Giorgio Streller il regista che ha portato avanti un concetto molto forte e importante del teatro in Europa ed è appunto la sede nuova di questo teatro il piccolo teatro a Milano che qui vedete nella sua parte diciamo nuova del teatro ma che ha avuto nel complesso di questo progetto anche l'interessante originale ristrutturazione della preesistente teatro Fossati che si affaccia praticamente in prossimità di questo nuovo edificio ma il mio approfondimento su questo lavoro di Zanuso come ovvio che sia data la mia specifica competenza da ormai 40 anni di storico del design è dedicato all'opera altrettanto importante di Marco Zanuso designer che alla fine degli anni 70 quasi offuscava questo suo ruolo quello di architetto per quanto abbiate già visto la mole dell'intensità e la qualità del suo lavoro nel campo architettonico urbanistico prendo quindi il titolo che ho dato a questo incontro progettare l'innovazione e innovare la progettazione all'inaugurazione dell'anno accademico 1986-87 della facoltà di architettura del Politecnico di Milano Marco Zanuso incaricato della prolusione d'apertura in qualità di professore decano poco dopo andare in pensione tracciò per l'appunto per questa occasione una sorta di testamento culturale dedicato agli studenti a cui diede il titolo progettare l'innovazione innovare la progettazione non ho trovato foto di Marco Zanuso in aula o proprio facendo questo tipo di prolusione ma mi sembrava giusto mettere altre immagini di Marco Zanuso a fianco alla sede storica dell'oggetto ma almeno quello poi moderno della facoltà all'epoca facoltà di architettura disegnata da Gio Ponti con l'aiuto con la participazione di Piero Portalupi che compare appunto tra gli anni 50 e 60 e anche la sede attuale molto orgogliosa della scuola che si collega appena dietro a quell'edificio che vedete sopra difatti nella foto si capisce che c'è quella parte vetrata in alto a sinistra che si rivede nella foto in basso a colori la sede è disegnata da Vittoriano Viganò l'ampliamento appunto della scuola di architettura con il suo famoso patio che è questa specie di piazza aperta che si trova sotto questo edificio ecco questo probabilmente anzi sicuramente è stato anche il luogo in cui vedendo le date Marco Zanuso fa questa collusione dicevamo progettare innovare innovare progettare due verbi posti in una sequenza senza soluzione di continuità due fasi del processo ideativo che richiamano il movimento incalzante di un motoroscopio un ciclo continuo di curiosità scientifica di ricerca sperimentale e di verifica produttiva che ha accompagnato e contraddistinto tutta l'opera di Marco Zanuso innovazione è un termine che in genere si riconosce di diritto alla sfera tecnologica ma senza dubbio ha una sua ragione d'essere soprattutto di riflesso a quella prima sfera anche nell'ambito morfologico e nel campo della tipologia per Marco Zanuso è evidente che progettare ha significato soprattutto cercare e produrre innovazione ma per Zanuso innovare non è stato solo una questione tecnologica in quanto per lui la tecnologia sicuramente fondante per il suo progetto è rimasta sempre un fatto strumentale profondamente integrato in un processo metodologico mirato ad innovare soprattutto la tipologia e di conseguenza anche la forma d'uso degli oggetti e degli spazi portare innovazione nel campo della tipologia significa guardare con attenzione alle grandi modificazioni sociali e culturali portate dalla società industriale negli usi e nei costumi della nostra vita quotidiana significa guardare al futuro non per nulla l'origine etimologica del verbo progettare in italiano deriva dal latino che significa gettare in avanti con la speranza progettuale di risolvere problemi non ancora espressi chiaramente attraverso nuovi oggetti nuovi modelli d'uso nuovi linguaggi comunicativi corrispondenti alla forma del proprio tempo progettare innovazione nella sfera tipologica significa per Zanuso accompagnato sempre dal fondamentale collaboratore ripeto Richard Sapper concepire per esempio televisori portatili e trasparenti tanto da sembrare un piccolo acquario elettronico come il modello Donney del 1964 per l'azienda Brunvega con la quale concepì altre importanti realizzazioni che adesso vedremo con l'azienda Brunvega come per esempio vedremo più avanti la radio TS502 qui di questa geniale soluzione di un televisore estremamente compatto che in Italia forse in Europa per la prima volta adotta i sistemi transistor che vengono compattati in una soluzione studiata da Zanuso con i tecnici come una sorta di spiedino che consente di impacchettare la pretuberanza di quella lampada che è appunto l'oggetto televisore come proiezione di luce che si infila dentro queste diciamo sorte di buffer di queste sorte di pacchetti che sono bucati al centro per appunto consentire questo impacchettamento e ottenere questo tipo di oggetto che perde tutti quei connotati che all'epoca avevano i televisori di oggetti in legno oggetti pretunziosi stabili per rimanere fermi in luoghi celebrativi della casa e invece questo oggetto come vedete ha un appoggio a terra pensato come dei pattini che è quasi da poter far scorrere e questa anche idea di una scocca trasparente che fa tutt'uno con questa cornice che tiene dentro lo schermo televisivo ecco questa idea questa idea questa soluzione fa capire come Zanuso mentre risolve i problemi tecnici cerca anche di portare in un ambiente domestico un oggetto affascinante magico che ha una sua altra dimensione da raccontare parlavamo adesso appunto della radio TS502 realizzata sempre per Bionvega e nello stesso anno 1962 una radio che dispiega la sua funzione come una collagatissima cassetta di attrezzi quando aprendola svela all'interno la sua specifica funzione tecnica rigorosa come una strumentazione militare ma che chiusa appare invece come un levigatissimo sasso portatile ecco questa idea della tecnologia che quando serve si esprime nella forma anche più diciamo asciutta diciamo proprio estremamente funzionale ma che deve scomparire che deve ridursi a qualcosa di piacevole che porta nella casa un oggetto misterioso ma che ha qualcosa di bello nel colore fra l'altro questi oggetti incrociano tantissimo l'importanza che ha in quel momento l'uso delle materie plastiche sia per diciamo le tecniche e le soluzioni possibili di forme per le carrozzerie per la scocca ma anche per questa componente del colore qua vediamo alcuni disegni tecnici e di studio per questa idea di radio una soluzione questa di nascondere la funzione che troviamo anche in un'altra forma in un'altra tipologia quella del ventilatore dove nel modello Ariante per l'azienda Vortice nel 1972 Zanuso pensa a una scatola maneggevole che si può prendere in mano in tutti i modi mentre è anche in funzione cosa in genere preclusa al ventilatore o comunque con cui bisogna fare molta attenzione e vedete che è un oggetto che diventa come un'opera d'arte astratta un elemento espressivo ma che poi svela detto questo sua compattezza la sua funzione si intravede un ventilatore e devo dire avendolo anche io posseduto rimanevo sempre divertito l'idea che si può prendere un ventilatore in mano e farlo saltare come una palla e riprenderlo mentre e portassero in giro come si vede nella fotografia quindi questi oggetti che sono adesso userò per un altro progetto più specifico questo termine anzi aspetto a dirlo perché arriva con l'immagine successiva ma torniamo ancora ai televisori come l'Algol del 1964 sempre per Bionvega che piega il suo occhio ipnotico verso l'alto come un animale domestico appunto questo termine che volevo usare anche prima questi oggetti che sono dei piccoli animali domestici in questo caso c'è quasi un riferimento veramente al cagnolino alla ricerca di attenzioni un oggetto che cerca attenzione da parte di un nuovo e giovane consumatore del villaggio globale sempre più nomade nello spazio domestico un oggetto che quindi con questa scelta precisa di piegare lo schermo verso l'alto fa già capire che quell'oggetto non è più destinato per quel confronto del televisore frontale come il teatrino della casa ma un oggetto che può stare in basso su un tavolino o addirittura appoggiato per te di fianco al letto che quindi è un servo muto un servo che ti accompagna e che ti parla la sua lingua e ti intrattiene quando tu hai voglia di guardarlo è un processo che vede la televisione cambiare notevolmente e tenete conto che siamo nel 1964 dico solamente che in Italia l'inizio delle trasmissioni è di solo dieci anni prima e forse potremmo dire vado a memoria che al 1964 ancora i canali televisivi erano due in bianco e nero e molto limitati come trasmissioni quindi un oggetto che sembra appartenere al nostro mondo oggi di relazionarci con la comunicazione altrimenti guardiamo oga delle sedute per bambini si tratta del modello K49999 per la carter progettato e realizzato nel 1959 un oggetto dai coloi vivaci in materiale plastico stampato in iniezione qual'altro devo dire per quell'epoca una delle prodezze diciamo industriali in questo caso della carter di stampare un oggetto a iniezione di queste dimensioni le gambe sono applicate non sono l'oggetto stampato in iniezione in un unico blocco sono la parte della seduta dello schienale un oggetto concepito come un mattoncino di un gioco di costruzione che i quali i bambini possono non solo sedersi ma soprattutto divertirsi questa idea di giocare tra colore forma composizione componibilità quindi ovviamente impilabilità tema del progetto della seduta moderna che diventa gioco che diventa mezzo di conoscenza ma innovazione per Zanuso è stato anche vestire i panni del sarto per pensare a un abito più pratico e di facile portabilità da far indossare una poltrona la Martingala del 1954 per Arbex che si adatta con inegonia ed eleganza alle modi in economia del tempo post bellico ecco in questo senso avevo dovuto magari usare un'immagine per richiamarlo immediatamente ma devo dire che Zanuso mi raccontò come lui ebbe l'intuizione di diciamo tenere insieme una stoffa che doveva calzarsi e togliersi via con questo disegno impedendo che fosse troppo libera la caduta di questa stoffa e gli venne in mente che le sue amiche in quegli anni poco dopo la guerra avevano molto spesso delle giacche o dei cappotti o degli impermeabili con questo richiamo della Martingala che diciamo teneva insieme il tessuto abbondante e questo lui poi si rese conto era perché queste sue giovani amiche riciclavano perché erano i tempi difficili post guerra di un'economia gli abiti di famiglia per poterle rendere più femminili perché con un lavoro di sartina si poteva diciamo prendere il cappotto dei genitori dei fratelli purtroppo c'è da dire magari mancati durante la guerra e adattarli con questa ripresa che rendeva più diciamo femminile sui fianchi ecco lui intuì questa cosa rivedendo riapparire questo tema storico del disegno dell'abito appunto la Martingala sopra intanto vedete che questo oggetto appartiene a un ciclo di sedute che lui aveva iniziato qualche anno prima con un altro modello che si chiamava Lady dove c'è da parte del suo lavoro molto importante per la nascita di questa azienda Arfex una soluzione che ha detta anche del grande designer tedesco Marcel Breuer era la prima vera soluzione di industrializzazione degli imbottiti vale dire divani e poltrone con una vera meccanizzazione delle parti e con l'adozione di questi nastri elastici prodotti della Pirelli che era diciamo la azienda madre poi di questa azienda Arfex e lo stampaggio formato della gomma a piuma a quel momento e questo lavoro di Marco Zanuso con un ingegnere suo amico del Politecnico con cui aveva studiato che aveva fatto chimica applicata che era l'ingegner Barassi diedero vita proprio a questa soluzione di un arredamento degli elementi imbottiti moderno e innovativo ma come abbiamo detto Zanuso concepisce l'innovazione come sarto qui invece possiamo vedere Zanuso adottare un altro ruolo quasi vestire i panni del maestro carrozziere che mette la sua maestria al servizio di un ideale modello di sedia industriale e al contempo elegante che è il modello Lambda che lui disegna nel 1959 per la Gavina per l'azienda Gavina è un lavoro che va detto lui sta facendo pensando a una sedia particolarmente leggera e formata che ancora non si poteva realizzare in materiale plastico questo tipo di soluzione non c'erano materie plastiche che potevano essere stampate in questo modo e lui ricorre alla tecnica diciamo dello stampaggio delle lamiere di automobili ma in realtà pensa soprattutto a un lavoro di grande maestria che è quello dei battilastra cioè quelli che sapevano battere le lastre di metallo sulle master sui modelli in legno per creare quelle magnifiche automobili fuori serie firmate Pini Farina e tanti altri bei nomi della carrozzeria italiana e lui allora mette insieme questa esperienza e la traduce in una serie di parti che si possono saldare e fare di loro per comporre questa sedia molto bella leggera nella forma molto elegante nella forma devo dire piuttosto pesante perché è tutta quanto in metallo oppure ancora condividere la purezza progettuale dell'artista concettuale coniugata al metodo scientifico che sintetizza in oggetti assoluti monoliti di cristallo di acciaio o rivestimenti plastici funzioni che appaiono e scompaiono come quelle della cucina modello E5 prodotta dalla Elan nel 1966 dove la semplificazione tipologica degli elementi ne hanno fatto un modello archetipico per la purezza raggiunta nel disegno della cucina razionale integrata con l'architettura tenete conto l'apertura delle antine che si ottiene per la semplice presa sul bordo superiore arrotondato grazie all'invito ottenuto in un profilo a gola senza soluzione di continuità perfettamente integrato con il bordo inferiore del piano continuo in acciaio inox ma troviamo ancora più avanti un tema di questa purezza in un caso che è davvero speciale nel lavoro di Zanuso e molto anche apprezzato nella storia del design italiano ma adesso passiamo invece a vedere un altro caso di ricerca tipologica inusuale il caso del telefono grillo che progetta sempre ricordo in questi progetti con l'accompagnamento importantissimo e di fatto ormai riconosciutissimo di Richard Sapper siamo nel 1962 inizio del progetto vi era messo diciamo al pubblico nel 1966 per l'azienda Sid Siemens che è un progetto esemplare per la sua assoluta innovazione tipologica che ne fa addirittura un capo stipite inconsapevole di alcuni dei più diffusi modelli di telefonia mobile attuale siamo nel 1966 e lui concepisce questo telefono pieghevole che voi sapete bene che per molti anni e ancora oggi ritornano a essere ogni tanto una proposta del telefono cellulare portatile e devo dire un oggetto affascinante per tutti i temi che ho trattato anche prima sulla ambigua e raffinato modo di far nascondere la funzione e farla apparire tenete conto che questo oggetto che come si vede a sinistra appare come una sorta di conchiglia lasciata sul tavolo produce un suono appunto questo suono di richiamo telefonico con un particolare suono che di fatti dà il nome all'oggetto il grillo e chi non lo conosceva sentiva questo oggetto strano questa conchiglia questo sasso levigato produce un suono e quindi si ha l'intuizione quasi il dubbio che possa essere un telefono ma stupiti non si sa cosa fa e lo si prende in mano e si crea questo effetto dovuto a un peso dentro nella parte del dove si parla che rimane aperta si apre e diventa una sorta davvero di conchiglia in cui si parla notate anche che c'era ancora inserito il vecchio sistema di digitazione più che digitazione di rotazione della tastiera per poter produire il numero di telefono e anche qui la materia plastica colorata è molto importante poi questo oggetto usato e scoperto in questa funzione bastava di portarlo sul piano che si chiudeva magicamente perché appunto sempre per un calibrato controllo dei pesi si rimetteva in questa posizione ho voluto mettere anche la copertina del primo libro dedicato a Marco Zanuso scritto da un importante nostro intellettuale storico dell'arte storico del design Gillo Dorfles e nella copertina veniva proprio riprodotta l'immagine di questi studi in cartone per capire come questi coni più che coni diciamo questi cilindri che sono appunto le due parti per ascoltare e parlare si potessero coniugare qua ancora dei disegni tecnici costruttivi sono alcuni dei disegni che lo studio Zanuso prepara per questo tipo di telefono poi passiamo a quel caso che vi dicevo veramente speciale ed è l'esemplare per la sua assoluta innovazione tipologica questo modello questo perfetto televisore black del 1969 sempre per Beyond Vega che sintetizza le sue funzioni e lo metto fra virgolette funzioni in un assoluto cubo nero nel quale a richiesta si poiettano le immagini meglio che si poiettano ne escono fuori le immagini del mondo attraverso la sua pelle lucida devo dire è un'allegoria perfetta diciamo in perfetta sintonia con il mitico monolite del film 2001 l'odissea nello spazio proposto da Kubrick nel 68 diciamo praticamente in quell'anno poco prima pochi mesi prima una coincidenza interessante questa idea di pensare che appunto il nostro sapere il nostro mito si sarebbe confrontato con questa assurtezza proposta da Kubrick che qui trova una concezione veramente speciale rispetto a questa idea di cos'era diventato il comunicare e il messaggio medium diceva McLuhan della televisione una presenza assenza un oggetto astratto come un'opera d'arte programmata un'opera anzi direi quasi minimalista americana la Donald Jab un perfetto cubo nero che mi raccontava Marco Zanuso aveva fatto impazzire lui diceva addirittura piangere il suo prototipista di stampi in materie plastiche metacrilato che non sapeva come ottenere un perfetto cubo senza difetti in tutti gli angoli e disperatamente poi c'è arrivato e è riuscito a realizzarglielo un oggetto che mi ricordo che un altro mio grande maestro a cui ho avuto il piacere di stare molto vicino e collaborare anche in studio che parlo di Enzo Mari un designer veramente anche lui molto importante diversissimo dal Zanuso e che forse per certi aspetti non apprezzava tutto un certo modo di lavorare Zanuso però rispetto a questo oggetto disse quello l'avrei voluto fare io cioè proprio non sopportava l'idea che un oggetto così perfetto fosse stato fatto da qualcun altro e comunque riconoscendo con ciò Marco Zanuso da avere una capacità veramente unica in quel momento è interessante vedere di questo particolare televisore anche i disegni che sembrano veramente diventare delle opere astratte per questo tipo di relazione tra diciamo scatola e contenuto ma altri ancora sono gli esempi di questa ricerca che ritroviamo in una bilancia per alimenti il modello per Terraion che lui disegna insieme a Sapper tra 68 e 70 un oggetto molto piacevole e simpatico che si trova in molte cucine e che ha questa caratteristica appunto di come si può dire prestarsi alla sua funzione con quel coperchio che basta ribaltarlo che diventa anche un contenitore più ampio fino a poi averne anche un altro da aggiungere tutto questo poi tenuto insieme da un abile come si può dire incisione della incisione diciamo scavo della materia plastica che ritrova un suo fermo nella parte che vedete qui nera che ovviamente si bilancia e poi che si legge dentro quella prisma di metachilato che sta sotto oppure lo ritroviamo anche in una penna stilografica che lui disegna per l'Aurora il modello Astil del 1970 questo cilindro perfetto in acciaio che chiuso appunto è perfetto lascia solamente spogge appena quel tanto che serve il fermaglio perché ovviamente se in un cilindro rotolando può scappare via nel fermaglio ovviamente poi trova l'elemento di fermo perché non rotoli oltre quello che serve oppure ritorniamo all'azienda Necchi dove lui disegna in questo caso una a fila coltelli elettrico per la produzione appunto Necchi che è del 1963 quindi tengo sempre magari a sottolineare le date di questi oggetti perché sembrano ancora di vederli in una vetrina oggi in funzione in vendita e sono oggetti che hanno praticamente 60 quasi 60 anni ultimo caso che mi piace ricordare che ci riporta al tema della casa dell'architettura ma in una concezione del design un elemento componibile reversibile elastico mobile è l'idea che propone Zanuso sempre con l'aiuto fondamentale di Richard Sapper per la mostra che ha citato Eric all'inizio palediga questo diciamo evento diciamo fondamentale per la storia del design italiano che è stata la mostra Italy the New Domestic Landscape del 1972 al Museum of Modern Art di New York una mostra che ha diciamo sancito se possiamo dire in quel momento una sorta di ruolo e primato del design italiano un riconoscimento che darà dagli anni 70 fino agli anni 80 e 90 poi magari l'onda si è andato un po' a smorzare ma comunque un ruolo di riconoscimento del design italiano molto importante peraltro mi piace sempre ricordare che il titolo pensato dal curatore della mostra Emilio Ambazzo questo giovane all'epoca giovane architetto argentino curatore della sezione design architettura è un titolo pensato insieme agli amici architetti designer italiani che nota si bene non mette la parola design nel titolo ma parla di un approccio di un modo di una sensibilità che produce cose utili ma che nascono da un concetto di una nuova domesticità un nuovo paesaggio domestico cioè un'idea dove il modo di sentire lo spazio e l'abitare crea anche oggetti che hanno la capacità di vivere autonomamente ma che ci raccontano di modi di interpretare le trasformazioni dell'abitare moderno e in questo caso siccome la mostra prevedeva che alcuni autori considerati più importanti in quel momento presentassero delle idee di un abitare del futuro di un abitare contemporaneo e innovativo alcuni lo interpretarono in maniera più metaforica più onirica e altri in maniera anche altrettanto tecnica era un'idea di sistema di unità d'emergenza da proporre per tante situazioni in cui poteva esserci necessità di una emergenza come purtroppo nel nostro paese ma non solo ma comunque capita spesso per problemi indettati da qualche diciamo grande evento naturale però stavo dicendo prima che come Zanuso è presente con questo progetto sono chiamati con altri progetti che saranno molto significativi in quegli anni Ettore Sozzas Gare Olenti Gio Colombo Gaetano Pesce Alberto Rosselli tutti autori che daranno dei spunti molto interessanti e che sicuramente questa mostra con questo tema dell'environment cioè dello spazio e dell'ambiente abitato ha segnato veramente una strada a questo punto devo dire che nell'opera di Zanuso ritroviamo la peculiarità più profonda del design italiano la capacità di ripensare al valore d'uso di un oggetto ai suoi caratteri tipologici e di conseguenza anche formali incrociando con grande coraggio e originalità le innovazioni tecnologiche supportato dal grande sforzo ci tengo a dirlo di rinnovamento della piccola e media industria italiana con i nuovi linguaggi espressivi alla base della cultura estetica di questi progettisti questa peculiarità del design italiano che si è espresso con il piacere ironico della trasgressione rigeneratrice dei fratelli Castiglioni oppure si sia evocata con l'elegante pragmaticità di un magistretti o di un Bellini o ancora si sia messa in gioco con la leggerezza sua dente dietro e sozzas oppure si sia idealizzata nel progetto etico di Enzo Mari o per l'appunto venga a costruirsi con la scientifica metodologia progettuale di Marco Zanuso troviamo sempre in tutte queste azioni in queste proposte una forte ricerca nell'innovare il tipo il tipo che porti inevitabilmente a immaginare a proporre un altro tipo quasi un controtipo un altro tipo possibile e con ciò un altro futuro possibile questo disegno è uno degli studi per quella unità di sopravvivenza in cui uno spazio minimo esistenzio realizzato in quella costruzione per la zona cucina Zanuso immagina le mille azioni le tante azioni le tante funzioni che bisogna pensare del nostro corpo che vive gli spazi e gli modelli con ciò io ho terminato grazie e passiamo a sentire quello che sono i commenti dei nostri ascoltatori grazie 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 tante Giampiero Bosoni per questa impressione veramente molto ricca molto diversa tanto affascinante trovo io è molto ispirante anche per una ricchezza di domande che ho scritto qui che non devo tutto ponere vedo già una domanda molto interessante anche nella Q&A e vi prego anche di scrivere di più se volete chiedere qualcosa io utilizzo la mia posizione privilegiata per cominciare con una con la discussione ma ovviamente non sono il solito a chiedere ho visto spesso dei disegni tu hai parlato anche dei disegni nel tuo ultimo immagine ma anche prima in questo affascinante disegno quasi astratto della tv quale era la relazione in questo periodo o forse anche specificamente per Zanuso fra il disegno ancora fatto a mano e un processo di produzione di cui hai parlato all'inizio della tua relazione un processo di produzione industriale ovviamente da un lato abbiamo quasi un artista da un altro lato abbiamo l'industria ovviamente questo è anche un tema già dal Bauhaus eccetera ma forse c'è una posizione particolare perché mi sembravano molto interessanti opere in un senso opere che valgono anche un'attenzione in se stesso allora io che insegno dal Politecnico in Milano sia progettazione che storia e quindi che ho un laboratorio di progetto nella bienno magistrale e invece un insegnamento che ho da quasi 40 anni di storia del design al primo anno mi ritrovo spesso a toccare questo tema del disegno come strumento necessario della diciamo costruzione di qualunque cosa e che i nostri studenti i nostri giovani ormai da un po' di anni hanno la possibilità di produrre per lo più ormai quasi esclusivamente con le tecniche diciamo dei computer se non ovviamente sperando che lo facciano ancora con almeno il primordiale almeno inizio di un schizzo ancora a mano però per quella generazione che abbiamo detto c'era tutta una gamma di tecniche di disegno che arrivavano fino al più definito che erano tutti prodotte manualmente e devo dire che c'era una storia dietro a quel lavoro che aveva visto in certi momenti costruirsi una grande sapere anche dell'armonia e del principio con cui si raccoglievano gli elementi per comporre un disegno finito io non ho lavorato da Zanuso ho visto molti suoi disegni e ne capisco diciamo tutta una serie di approcci diciamo molto interessanti sotto il punto di vista del metodo e comunque ancora una grande capacità di trovare il modo di come si può dire disegnare in maniera molto precisa delle parti tecniche voi dovete pensare che disegnare degli stampi di materie plastiche non è facile per chi se ne occupa sa che c'è una grande questione che si chiama progettare il sottosquadra perché tutti gli elementi che tu disegni in materia plastica almeno in quell'epoca era più un problema di adesso ma devono uscire da uno stampo e per cui non possono mai essere cilindrici o addirittura in una forma che non può uscire dallo stampo devono essere sempre in grado di uscire dagli stampi e ci sono tutte delle attenzioni su come si risolvevano i vari dettagli di questi oggetti ecco io non ho conosciuto tanto quel lavoro ma posso dire che facendo parte come comitato scientifico tanti anni della fondazione Franco Albini un altro grande maestro di quell'epoca ho capito anche per quello che mi raccontavano tante persone che ho incontrato che l'hanno conosciuto che guardavano per esempio molto a Franco Albini proprio per quella rigore e capacità di rendere intelligente e diciamo anche bello in un senso coerente di questo concetto il disegno tecnico cioè c'era un'attenzione che andava poi insieme alla qualità del progetto nell'arrivare a un prodotto del disegno tecnico che aveva una sua io adesso uso questi termini magari ripetutamente diciamo armonia una sua coerenza una sua comprensibilità dove mettere insieme il disegno aveva un senso molto preciso diciamo anche etico di una sorta di valore potremmo dire portato del progetto nell'incontro tra il progettista e il produttore non c'era quell'idea della lasciare le cose che si fanno era indicazioni molto precise molto chiare e che poi venivano ovviamente affrontate di volta a volta col produttore questo tipo di situazione chiudo meriterebbe quasi di essere analizzata attentamente per ogni progettista perché c'era di fondo per molti di quella generazione questo atteggiamento ma poi si può riconoscere che la formazione e il percorso che vivono alcuni autori è diverso e si trovano magari modalità indicative di questo diverso modo di lavorare sicuramente Zanuso cercava il computer potremmo dire così avrebbe voluto avere maggiore possibilità di controllare il progetto con certe tecniche che oggi abbiamo però posso anche dire che nello stesso tempo lui stesso direbbe che averci lavorato più faticosamente con un certo approccio come dire più 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 controllato e più attento gli ha reso forse più interessante la qualità intrinsica di quei progetti un'altra domanda che mi è venuto quando ho visto quando ho visto questa sedia per i bambini K4999 io spesso ho l'impressione anche anche in altri libri sul design italiano del dopoguerra o degli diciamo di questi anni piuttosto degli anni 60 più che 50 che c'è un particolare senso ludico c'è anche un ritratto abbastanza famoso di Zanuso che lo mostra insieme a una bambina e la figlia probabilmente e questo è qualcosa di specifico per questo periodo è specifico per Zanuso perché si potrebbe venire anche in altri oggetti che hanno niente da fare con bambini come questo telefono che non sembra essere un telefono ma sembra in un senso anche un giocattolo per adulti ho cercato nel mio intervento di in qualche modo leggere in maniera meno schematica e meno diciamo tecnica i suoi progetti per capire come dietro oggetti così innovativi da un punto di vista tecnologico con l'uso di certi materiali lui di fondo poi cerca sempre di aggiungere qualcosa che sia come si può dire l'anima di questi oggetti e questo atteggiamento per Zanuso è più interessante magari che per esempio per progettisti che hanno evidentemente lavorato con questa intelligenza ironica del progetto sapendolo anche controllare in maniera magnifica e penso soprattutto ai fratelli Castiglioni che sono diciamo l'emblema di questo rapporto tra il progetto funzionale preciso innovativo ma anche molto più evidentemente giocato come linguaggio Zanuso apparebbe per molti un tecnologo una persona che ha giustamente così è stato anche avuto a cuore solo il problema del rapporto corretto con l'industria del prodotto funzionale poi se guardiamo bene questi oggetti hanno dei colpi di genio incredibile nell'introdurre valori che vanno ben al di là della sua più banale funzione cioè un televisore che in una piega della disposizione del visore verso l'alto del tubo catodico prima non mi veniva questo nome che è il nome che aveva la lampada che stava dentro nel televisore questo oggetto insomma che era piuttosto singombrano che peraltro piegare il televisore verso l'alto con il tubo catodico che aveva ancora questa sua diciamo lunghezza della lampada è un problema anche di disporne la posizione giusta però il fatto di convincere il produttore che piegando questo occhio verso l'alto tu cambiavi un modo diverso di proporre l'oggetto al consumatore che diventava un oggetto molto più vivibile che non quello che doveva stare dentro nella mensola chiusa del mobile è un concetto che diventa commercialmente interessante ma soprattutto che apre uno scenario dove io ho usato questo termine che poi nella storia del design italiano ricorrerà ancora più avanti di animale domestico cioè di un oggetto come tutti gli oggetti con cui noi abbiamo un rapporto in qualche modo animistico come insomma il famoso Pinocchio ogni oggetto ha un po' una sua anima e noi ci incontriamo con gli oggetti per la loro funzione ma un po' cerchiamo anche in qualche caso di legarceli un po' a noi c'è una strazione di affezione e di passione ecco il design italiano in genere e alcuni autori in particolare ha saputo sempre lavorare su questo aspetto in maniera molto molto forte molto convincente e uno non se lo aspetterebbe in certi casi da Zanuso poi a guardare bene invece Zanuso ha molto presente certi temi dell'abitare e del vivere quotidiano e come devo dire e questo lo risottolineo sono tutti autori che hanno una formazione molto ampia e molto articolata sul piano della cultura artistica sia storica ma anche quella contemporanea artisti di grandissimo valore amici con cui scambiavano queste loro impressioni senza copiarsi ma intuendo delle nuove modi di rappresentare il mondo e così anche rapporti molto costruttivi con artigiani con industriali con tecnici con ingegneri c'è una ci potrebbe dire che con gli anni settanta tu avevi parlato anche del termine landscape environment viene una specie di crisi o una una nuova serietà per così dire dopo il gusto ludico degli anni sessanta o questo è troppo semplice? io credo che questo percorso rimanga ancora nelle radici di una diciamo cultura italiana che sicuramente forse ha perso lo smalto di certi insomma momenti storici ma è naturale devo dire che rimane comunque un grande serbatoio di diciamo di valori e di anche capacità di esperienze che secondo me oggi trovano per esempio in molti anche stranieri che vengono ancora a frequentare questo territorio una diciamo una linfa abbastanza vitale certo che quello è stato un momento veramente speciale e che adesso diciamo guardiamo con grande con grande ammirazione mi ha fatto venire in mente quello che dicevo prima legato anche a quello che si sta dicendo adesso una uscita una divertente commento di un amico di Marco Zanuso che era Vico Magistretti che quando una giornalista dico per dire americana negli anni 70 80 forse gli chiedeva ma voi come è fatto ad essere così interessanti così geniali così creativi e allora lui dice ma pensarci bene io penso che lui diceva Vico Magistretti che io Marco Marco Zanuso il Cici che era Achille Castiglioni e così altri con cui ci siamo laureati insieme al Politecnico in Milano forse innanzitutto abbiamo avuto la fortuna o comunque la condizione di essere tutti quanti usciti dal liceo classico noi abbiamo studiato greco e latino abbiamo studiato storia dell'arte e però dice anche una cosa interessante io quando lo dico ai miei studenti che magari si spaventano l'idea di pensare che si deve aver fatto il liceo classico no dice guardate che poi lui aggiungeva però noi uscivamo dalla guerra e avevamo una gran voglia di divertirci prendevamo le nostre motorette per poter uscire finalmente dalla città per raggiungere i luoghi dove andare a ballare e c'era un nostro piacere di anche scappare dalla noia di una certa concezione classica però per nostra fortuna quando prendevamo in mano la matita avevamo visto Piego della Francesca avevamo visto Bramante avevamo visto Giotto e c'eravamo un po' di pudore un po' di come dire un po' di di buoni riferimenti e quindi c'era una gran voglia di essere nuovi rompere con le tradizioni ma anche una certa ricchezza di elementi che affioravano diceva come punti di riferimento senza essere condizionanti senza preoccuparci di trovarli come elementi da imitare ecco ecco quella ricchezza e quella sappiera che io credo sia ancora abbastanza presente certamente in quel momento aveva un momento forse più interessante perché il dopoguerra è un momento in cui c'è una enorme voglia non solo dei designer o degli architetti che allega tutti gli architetti ma anche delle piccole medie industrie che avevano il problema di si dice in italiano sbarcare il lunario cioè di riuscire a mettere insieme qualcosa per mangiare quindi c'era molto coraggio e voglia di innovare quindi c'è una condizione veramente speciale di energie positive diciamo così che spavano anche però a una notevole ancora ricchezza e densità del sapere e della conoscenza sì mi piace questo ritratto del design forse anche dell'arte italiana dopo guerra di un gusto della ricerca per divertirsi basato su una fondazione un fondamento classico perché forse anche poi ritorna in un modo diverso nel mio campio piuttosto in un'architettura postmoderna o in generale forse nel postmoderna io ho un'ultima domanda forse e poi vedo una domanda molto interessante nel chat e di nuovo chiedo al pubblico di entrare nella discussione con le domande che cosa fa l'architettura di un designer una architettura particolare c'è una un'amore particolare per la forma io vedendo gli esempi che ci hai mostrato mi sono ogni tanto chiesto se forse c'è più libertà formale comparato con architetti che in questo periodo ancora si hanno dovuto definire funzionalisti forse un designer ha un altro collegamento con la libertà come lo vedi tu? tocchi un argomento che nell'ambito italiano è ancora oggi diciamo un motivo di discussione cioè questa idea della separazione del lavoro dell'architetto da quello del designer e noi oggi abbiamo nella nostra Politecnico ormai da più di vent'anni una scuola specifica di cinque anni di formazione del design ed è stato un momento diciamo piuttosto importante dell'evoluzione del Politecnico però piuttosto anche sofferto stiamo giusto facendo in questi giorni e quindi sarà forse in questi mesi e ci faranno forse anche qualche anno un lavoro di ricostruzione del ruolo del tema design progetto di oggetti utili dentro nella scuola nel tutto il Politecnico per come arrivano le primi insegnamenti e poi via via la scelta di far nascere una scuola però questa scuola che è nata appunto non tantissimo tempo fa vedeva in realtà una storia già molto importante di quello che chiamiamo la cultura del design italiano che era fatta da architetti cioè lo che noi stiamo vedendo adesso a quel momento era fatto da autori Zanuso per esempio l'abbiamo visto che praticavano e come il lavoro dell'architettura ma avevano trovato un po' occasionalmente diciamo ma in maniera sempre più importante questo rapporto con aziende industrie per la realizzazione e il disegno di oggetti tenete conto che questa situazione è molto rara a livello internazionale soprattutto nei momenti in cui pensiamo che questi autori non lavoravano all'interno dell'azienda non avevano un ruolo diciamo integrato all'azienda ma collaboravano con tante aziende diverse a volte anche concorrenti ovviamente poi ci sarà il problema in alcuni casi di evitare certe eccessive concorrenzialità però anche concorrenti e questo tipo di lavoro che nasceva in un rapporto prima con aziende spesso piccole che erano ancora artigianali avrà uno sviluppo molto importante soprattutto per il disegno del mobile ma abbiamo visto che un'azienda come Olivetti che però è un'azienda tutta speciale perché la storia Olivetti è veramente una storia di un certo livello non comparabile tanto ad altre storie industriali comunque è un'industria e anche lì c'è una grande collaborazione allora la storia architettura design come due cose che producono effetti diversi oppure il designer che fa anche architettura e la fa in maniera diversa in Italia è un discorso un po' difficile da trattare anche fino agli anni 60 fino ai primissime 70 ma diciamo fino a metà degli anni 60 era normale pensare che nelle scuole di architettura ci fossero alcuni che potevano avere scelto di fare anche il lavoro del disegno utile ed erano comunque ancora considerati dei grandi architetti qualcuno iniziava anche devo dire a fare dell'instingo e dico solamente che nel nostro Politecnico ci sarà un certo scontro a distanza mai diciamo troppo espresso ma comunque evidente tra la scuola di pensiero di Ernesto Nathan Rogers che abbiamo già citato con tutta una serie di riferimenti e la figura di Gio Ponti che era invece un altro tipo è un altro modo di progettare però anche lui mancasse altro grande architetto faccio solo un esempio per intenderci che a quell'epoca e qui forse entriamo in un discorso che non so se tutti hanno dei riferimenti chiari in proposito però a Milano ci erano stati per tanti anni gli unici due edifici alti chiamiamoli Gattacieli portano uno il nome di Gattacielo Pirelli disegnato da Gio Ponti e un altro che si chiama Torre Velasca disegnata dal gruppo BBPR di cui Rogers faceva parte due modi molto diversi di rappresentare degli edifici alti nella città e per essere poi sintetici devo dire che Rogers che fa col suo gruppo BBPR un edificio ispirato a delle forme addirittura quasi storiche come una torre medievale giudicava l'elegantissimo disegno raffinato ma molto affilato di Gio Ponti quello della torre Pirelli come un oggetto di design e lo diceva in termini un po' dispregiativi come dire Gattacielo che non ha la sostanza dell'architettura e allude un po' troppo alla forma elegante degli oggetti quando oggi questo termine soprattutto per quello che si vede in giro è strasuperato però lo racconto per dire che questa compresenza di disegnare cose e fare architettura era comune perché lo stesso gruppo B.B.P.R. e Rogers disegnavano poltrone per l'Arflex e anche altri oggetti però il modo di farlo di Ponti veniva subito tracciato come più decorativo di quanto non facesse lo logo e quindi nasceranno dei distinguo ma un distinguo che fino agli anni settanta è difficile porselo che diventerà più forte negli anni diciamo fine settanta pensiamo solamente noi ci intendiamo quello che ha rappresentato l'opera di Aldo Rossi o di altri autori che per quello che significava in quel momento l'architettura era un atteggiamento che proprio escludeva di guardare ai modelli del design poi ironia della sorte Aldo Rossi è diventato anche lui un noto designer di oggetti commerciale dove la forma è tornata a essere molto legata a quel modello del design italiano ma la storia italiana è sempre un po' complicata da raccontare perché le figure sono tante e i dialoghi si intrecciano moltissimo e a volte è proprio così interessante nel dialogo nel dibattito ma non è monologico anzi è pluri pluri espressivo parlando di personaggi abbiamo una domanda di Antonio Romano che voglio condividere con voi immaginare chiede Antonio immaginare un percorso zanuso e sapper poi Dieter Rams della Brown e J.P. Ive Apple è possibile sì allora la citazione di Dieter Rams e il suo maestro Kugelot della storia della scuola di Ulm io la pronuncio male Okskulfurgestaltung cioè la famosa HFG di Ulm è un riferimento interessante perché i pezzi che abbiamo visto disegnati da Zanuso con già a fianco sapper per Brionvega vengono organizzati negli anni in cui è attivissima e molto importante come riferimento la scuola di Ulm e quindi l'attività di Dieter Rams appena seguire con l'azienda Brown ecco sono due modi di concepire gli apparecchi diciamo domestici elettrici in funzione poi si chiamano elettrodomestici bruni quelli che erano appunto pensate all'inizio questo termine bruno il colore bruno marrone praticamente ha riferito al fatto che questi oggetti nascevano per molto tempo in quel periodo in scatole di legno per distinguere dagli elettrodomestici bianchi che invece quelli in laniera bianca che entravano nelle zone igieniche della cucina e del bagno ecco questi elettrodomestici bruni disegnati dalla Brown e gli elettrodomestici bruni che poi non sono più bruni perché sono tutti in materia plastica disegnati da Zanuso e Saper per Bionvega sono chiaramente diversi per quanto siano geniali i modelli di si i modelli di Rams nella concezione di sistemi e anche di accostamenti materiali però c'è chiaramente un problema di riduzione ai minimi termini di questo oggetto estremamente elementare e molto contenuto io direi poco giocoso anche se secondo me molto belli e molto eleganti quell'anima che abbiamo visto in televisore fatti nello stesso periodo questi qua del 62 o in quella radio è un'altra storia cioè di fatti in quel momento si crea un salto di qualità abbastanza spiazzante rispetto al concetto del disegno industriale cosa che crea anche un po' degli effetti critici perché viene considerato un po' un'eresia cioè permettersi di entrare nel mondo anche perché diciamola tutta questi oggetti come abbiamo visto di Zanuso davano un po' l'impressione di ammicare un po' troppo un pubblico che voleva cercare qualcosa di originale quindi c'è un po' la critica di dire eh ma a cosa vuoi concedere qualcosa di commerciale che vuole come di inseguire l'aspetto ludico come fosse un aspetto negativo perché il design in quel momento soprattutto la scuola di Hume lo poneva quasi alla base era un concetto anche didattico quasi sociale informativo di darti una regola e un ordine funzionale coerente eccetera 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 ecco quindi il rapporto tanto Dieter-Rams Zanuso è questo poi quando si parla del caso IVE IVE del progetto per l'Apple lì è una storia diversa perché voi sapete se leggete la biografia di come Steve Jobs che è il vero progettista ecco diciamo anche una cosa che quando si parla di design ma quando anche si parla di architettura bisogna parlare anche di chi è come si dice a volte il papà e la mamma cioè anche il committente chi è anche il coraggioso committente che ha la diciamo disponibilità e il coraggio di investire su un progetto nuovo e spesso quando c'è una figura come questa e Adriano Rivetti è stato il modello di tutta questa storia ha a che fare con quello che io chiamo il progettista primo quello che fa la domanda progettuale corretta che rende più facile il lavoro di un progetto più approfondito del designer soprattutto che magari il designer non sia costretto ad arrampicarsi sugli specchi a rispondere a domande come capita spesso assolutamente fasulle che chiedono un oggetto che sia economico ma che sembri oro che tutto è il contrario di tutto ecco invece la domanda progettuale corretta e coraggiosa di un buon imprenditore fa la differenza e Steve Jobs è sicuramente per eccellenza anche lui un progettista primo fa delle domande chiare e forse avete letto che Jobs si interessa subito quando inizia a fare i suoi oggetti alle esperienze tedesche della squadra di Ulm tant'è che il suo primo iPod tipo questi qua che per caso hanno in mano sono la copia quasi fedele delle prime radioline di Dieter Rums poi lui lo racconta Jobs va a vedere questa convegno ad Aspen dedicato al design italiano e ha un'illuminazione capisce che gli oggetti hanno anche un altro tipo di anima e inizierà un percorso molto più diciamo prima espressivo perché sapete c'è l'iMac trasparente che sembra la coppia del di Zanuso cioè mostrare l'interno ma farlo diventare non un fatto tecnologico ma un fatto di relazione quasi come si può dire un po' magica come guardare dentro appunto dicevo nella sfera di cristallo o guardare dentro in un acquario qualcosa che c'è dentro e ha una sua vita diversa che tu la sveli e poi invece quest'altro discorso che è nella storia di tutti i pezzi del cuore oggi di far scomparire la tecnologia di far diventare un oggetto quasi inesistente ecco quindi il caso del progetto che citiamo adesso il designer Ive che arriva un po' dopo ma comunque che prende in mano questo spunto è una sintesi se vogliamo dire che si confronta con questi due percorsi ovviamente trasferiti in una tecnologia in un mondo molto più avanzato è interessante comunque guardare e confrontare e cogliere un po' questi diciamo passaggi questi momenti del progetto su anche aree geografiche culturali diverse non so se ho dato una risposta utile ma comunque penso molto utile anche nel senso che quelli come io che non conoscono tanto sulla storia del design soprattutto di jpi abbiamo capito molto meglio di che cosa si tratta adesso e ho trovato molto molto interessante questo link fra Apple e la scuola di che è ovvio infatti ma della quale non mi sono mai mai reso conto io ho una domanda un po' ispirata anche personale perché si tratta della differenza delle nostre generazioni di te e io e anche delle culture tedesche e italiane di ricerca io direi e ho visto anche in Italia quando sono stato lì che si parla molto di più che da noi ancora di persone singole si utilizza il termine maestre eccetera che da noi non si fa tanto e anche penso che nella mia generazione io ad esempio non ho lavorato su una singola persona così tanto piuttosto su fenomeni movimenti eccetera tu hai fatto ambe due infatti hai fatto hai lavorato su tanti personaggi individui ma anche su movimenti più grandi se Zanuso non ci fosse stato che cosa mancherebbe alla storia del design italiano degli anni 50 fino a 70 allora qual è il suo contributo secondo te più significativo beh io credo che mancherebbe un pezzo fondamentale che forse oggi pochi colgono ma che per chi ha vissuto io all'epoca era molto giovane in quel periodo non può non ricordare quale significato aveva l'opera di Zanuso io devo dire che forse è stato il primo di questi autori a guadagnarsi come si può dire le copertine delle riviste come designer come figura che aveva forse in un'accezione che in quel momento era quasi indispensabile cioè quello del disegnatore per l'industria del designer industriale poi è un termine che è stato molto smontato nel tempo come concetto ma che in quel momento era quasi la condizione indispensabile per parlare di design quello appunto del lavorare per l'industria in questo senso il lavoro di Zanuso era esemplare perché mentre gli altri designer lavoravano soprattutto nel mondo del disegno del mobile e con tutti gli equivoci di essere un po' più architetti un po' più disegnatori di sedie o poltrone e c'era tutto un po' anche un discorso che ricordava il fatto che alcune di queste aziende all'epoca che poi cresceranno erano ancora abbastanza piccole c'era tutto un equivoco sul limite artigianale di quel progetto invece era sbagliato perché il progetto design come progetto è una cosa che non deve avere un diciamo condizionamento sul modo in cui viene prodotto ma sul processo è quello l'importante cioè qual è la logica che tiene insieme le ragioni di quel progetto ecco invece c'era molto la richiesta che fosse legittimato dal fatto di essere per l'industria e in quel senso Zanuso era l'unico che davvero progettava tante cose per diversi ambiti industriali e devo dire che in questo senso era predominante la figura di Zanuso fino a quasi anche essere poi dimenticata proprio per questa sua apparente almeno legame quasi unico con l'industria quando poi ci sarà la grande crisi che parlerà in epoca postmoderna di un periodo postindustriale quel approccio metodologico del rapporto con l'industria diventa quasi un po' obsoleto un po' dimenticato cosa che invece non è vero rimane ancora però sicuramente con altri tipi di complessità che forse Zanuso non ha fatti in tempo a intercettare col suo progetto lui si ferma ancora un po' al progetto diciamo dove l'interno è ancora per quanto elettrico una massa con una sua diciamo valore quasi ancora meccanico insomma un po' strutturale dove la carrozzeria si legava al rapporto di questa massa che voi sappiamo bene oggi è molto cambiato e comunque è cambiato proprio l'approccio di questa categoria design per l'industria o design per il fai da te ecco all'epoca invece Zanuso era proprio si è anche un po' costruito lui questa immagine per cui vi dicevo è fondamentale ha insegnato molto e soprattutto va riletto in questo modo per la sua geniale capacità di mettere insieme non solo la tecnica ma insieme la forma intelligente contemporanea e soprattutto la questione tipologica cioè del valore d'uso rispetto ai comportamenti agli stili di vita piuttosto questa sua però identità storica di tipo industriale lo ha un po' poi relegato in una in una sorta di cornice che lo ha fatto come dire considerare superato e invece io credo che riguardando con un occhio attento la sua progettazione si rimane ancora affascinati dalla sua ampiezza ho citato il caso di Enzo Mari che sicuramente si metteva su un altro piano un altro percorso del design però e secondo me aveva anche molte cose che non apprezzava dello stile di vita e del modo di essere protagonista di quel momento di Zanuso ma non potevano cogliere il fatto perché anche lui troppo intelligente che Zanuso avesse comunque nella sostanza una sensibilità e una capacità di cogliere alcuni caratteri profondi del progetto come appunto non poteva che togliersi il cappello davanti al risultato quasi impossibile per tutti gli altri del televisore black come parliamo qui in un istituto italiano di cultura nella Germania ci puoi raccontare un po' di più sulla relazione fra Zanuso e Sapp perché mi interesserebbe sapere di più quale era veramente il ruolo di Sapp e anche ci sono aspetti culturali che hanno giocato in questa storia allora innanzitutto non so se l'ho fatto notare i disegni di quel periodo erano disegni dello studio Zanuso non c'era il nome di Sapp e oggi da un po' di anni ormai si usa anche nei musei mettere tutti questi oggetti con la firma comune Zanuso Sapp perché succede che negli anni ancora in cui sono vivi tutte e due c'è anche da parte di Zanuso il riconoscimento sempre più chiaro del contributo di Sapp però di fatto lui arriva come un collaboratore di progetto nello studio di Zanuso e questo rapporto quindi è per quanto poi sempre più intenso quello di un bravo braccio destro collaboratore poi Zanuso uscirà dallo studio non mi ricordo adesso benissimo la data ma credo che basti la data 1972 con questo bellissimo famoso pezzo disegnato solo da Sapp non nello studio di Zanuso che è la lampada Tizio un pezzo che è diventato uno di quegli emblemi del design italiano torno a lì design italiano perché Sapp come Philip Stark come Mark Newson inglese come Aisao Zoe giapponese sono tutti design italiani io ho insistito molto con il museo d'arte moderna di New York quando mi hanno detto facciamo un libro sulla collezione del design italiano ho detto sì ma mi mettete dentro anche i pezzi di Mark Newson per Cappellini di Philip Stark per Floss perché a un certo punto mi mandano l'elenco dei progettisti italiani e io vedo che non c'è Sozzas perché perché è nato in Austria ma voi siete amati Ettore Sozzas è italiano anche se è nato in Austria ma aggiungo di più che Richard Sapper che viene giovanissimo neolaureato o Makio Asuike che arriva da Tokyo neolaureato dal Giappone in Italia e vive per di più sempre in Italia è italiano ovviamente ci porterà attenzione tutta l'interessante incontro di una cultura di una mentalità di un approccio progettuale giapponese o tedesco ma è immerso sai che esiste un'espressione nella letteratura italiana che è quella per cui quando lo scrittore Alessandro Manzoni scriverà questo diciamo importantissimo libro che è i Promessi Sposi lui dirà che va a Firenze per un periodo per come si suol dire immergere i panni in Arno Arno al fiume di Firenze cioè andare a mettere tutto il suo sapere a confronto con la radice culturale della lingua italiana che è a Firenze ecco tutto il mondo del design di quel periodo e così ancora secondo me fino ad oggi quando arriva qui si immerge in una realtà che non è solo la cultura dei progettisti ma di un saper fare le cose che non trovi in nessun'altra parte del mondo e quindi quell'esperienza e quell'incontro con artigiani tecniche capacità creative e modi di vedere il progetto come una visione una sorta di continua messa in dubbio delle cose per immaginarsi un futuro diverso quindi ideologico politico anche molto spesso politico ecco questa azione del progetto è un elemento che nell'insieme dà un contesto particolare per cui chi arriva qui e si immerge qui e ci rimane dentro e lavora con le aziende italiane produce questa cosa questo per dire che saper arriva giovane e va con Gio Ponti che già è un mondo molto particolare poi incontra una figura forse più affina a lui che diceva una mentalità se vogliamo un po' tedesca per certi aspetti cioè che cercava l'organizzazione i grandi progetti metodologici industriali ma con quella formazione comunque importante italiana che aveva Zanuso e saper in questo senso si appianca è tutto da studiare il come saper prende un ruolo e come il saper cioè quanto c'è di saper in questi progetti cioè non è mai stato fatto uno studio è anche difficile farlo per dire quanto certi progetti abbiano una percentuale in più di saper o meno di Zanuso è quasi impossibile però bisogna anche dire che tutti gli studi di progettazione hanno sempre una figura che è il titolare che si prende una responsabilità di fronte al cliente di fronte ai fornitori di fronte a certe scelte che ne è responsabile e spesso è bravo proprio perché sa far lavorare bene anche i suoi collaboratori quindi è un po' difficile come dire separare l'uno dall'altro però è diventato così anche importante poi da solo come designer che si è creato via via sempre di più una soluzione di riconoscimento un po' come sta succedendo mi vedo davanti il caso di Charlotte Perriand nel rapporto con le Corbusier che ormai a Charlotte Perriand gli hanno riconosciuto tantissime cose giustamente anche prima di incontrare le Corbusier però per tantissimi anni le Corbusier era il progettista principale di tutti i suoi mobili però ricordando già all'epoca che c'erano anche altri due progettisti che erano il suo socio cugino Pia Jare e questa giovane Charlotte Perriand adesso con gli anni fa un po' diventa Charlotte Perriand che dava alle Corbusier le indicazioni di come fare i suoi mobili sappiamo che fa una storia più ricca io propongo che prendiamo un'ultima domanda del pubblico lei ha parlato sulle risorse o sull'ispirazione del design di Zanuso dagli artisti dal Rinascimento c'erano anche influssi dal Bauhaus su design italiano e particolarmente su Zanuso alla domanda e chiedo una breve risposta per concludere questa bellissima sera una breve risposta a una grande domanda allora diciamo che sicuramente quella generazione aveva sentito l'effetto l'importanza il richiamo potremmo dire di questa storia che è nata prima e che è quindi un riferimento fondamentale della scuola Bauhaus come anche della figura di Corbusier che sono storie diverse poi a un certo punto anche l'apparizione della figura di Alvaralto che è un'altra storia ancora poi appena dopo la guerra gli americani Charles Simms ma comunque la Bauhaus è sicuramente un punto di riferimento però un punto di riferimento che non viene come dire studiato dogmaticamente perché va detto e qui apro un inciso che devo chiudere velocemente perché aprirebbe un grande discorso che tutto il percorso dell'architettura moderna italiana degli anni 30-40 quindi tra le due guerre è un percorso di grandi interessi di grande qualità che cerca a suo modo di sopravvivere prima di tutto in un regime che insomma creava dei limiti notevoli però anche una certa distanza da un certo dogmatismo che veniva un po' formalizzato sul progetto moderno quindi c'è sicuramente un riconoscimento un omaggio indiscutibile alla storia della scuola Bawas ma non in una maniera così diciamo assecondata così diciamo in qualche modo anche imitativa anzi proprio ho detto prima si creava proprio una via italiana che non a caso verrà a un certo punto anche considerata eretica perché il movimento moderno rappresentato dal congresso d'architettura al Ciam arriverà praticamente a saltare a far saltare il banco proprio con le proposte degli italiani che arrivano con dei temi del rapporto tra il moderno e l'antico che vengono considerate diciamo delle provocazioni quindi il rapporto con la storia del design e dell'architettura in questo caso tedesca è sicuramente forte ma anche in qualche modo contenuta ecco diciamo così ok grazie tante per questa risposta e per questa serata molto molto ispirante rido la parola a Michela De Riso grazie davvero per questo ritratto e questi approfondimenti che ci hanno davvero affascinato ispirato siamo stati tutti intenti ad ascoltare con grande attenzione il contributo del professor Bosoni grazie al professor Vega per la sua moderazione e io metterò un link per tutti i nostri ascoltatori per iscriversi alla nostra newsletter dove potranno ricevere informazioni sulle nostre attività e quindi ulteriori approfondimenti su architettura arte letteratura cinema e teatro e volevo ricordare infatti che avete citato Vico Magistretti noi abbiamo dedicato una mostra prima della pandemia a Vico Magistretti e abbiamo anche come iniziativa nell'ambito dell'architettura un premio il premio Berlino che è un'iniziativa del Ministero degli Affari Estri in collaborazione con il MIC il Ministero della Cultura per realizzare due residenze di architetti under 30 a Berlino che lavorano in due studi per un periodo di sei mesi il bando nell'ambito della rigenerazione urbana e del riuso il bando è stato interrotto durante la pandemia ma contiamo di riprendere nel 2022 quindi questa è un'informazione sicuramente gradita a tutti gli studenti che ci stanno ascoltando colgo l'occasione per ringraziare anche il Polimi e tutti quelli che hanno consentito a questa iniziativa di avere luogo quindi la dottoressa lualdi la dottoressa Giannetto e il dottor Marchese che ci stanno ascoltando auguro a tutti voi una buona serata e vi saluto grazie davvero è stato un piacere saluto ancora il mio collega del Politecnico di Zurigo e tutti quanti voi dell'istituto che è stato un bellissimo spazio per fare qualche ragionamento spero utile a tutti i nostri diciamo ascoltatori grazie ancora è stata una bellissima conclusione del ciclo Politec Stories arrivederci a tutti grazie ancora presto grazie